Ci siamo chiesti come fondazione, con tutti i nostri organi, come potevamo rivisitare la nostra attività istituzionale in termini di risorse disponibili, di settori di intervento e di modalità di intervento. Di fronte a un evento eccezionale la risposta doveva essere, non dico eccezionale, ma comunque particolare e forse anche inusuale, quindi superare le consuete abitudini della fondazione per andare incontro in una maniera diversa a queste esigenze. In questo contesto è nata l'idea dal confronto con la nostra socia Lucia Ferrati, è nata un'idea, facciamo qualcosa per questo settore particolarmente colpito da questa situazione, sia come autori, sia come artisti, che come operatori del settore. Dall'idea, grazie appunto alla nostra socia Lucia Ferrati, è nato un progetto. Il progetto appunto di realizzare dei piccoli spettacoli, dei piccoli video, che potessero, diciamo così, soprattutto nei confronti di artisti giovani, se poi il progetto è stato anche, diciamo così, sopportato da qualche chicca particolare, di qualche particolare intervento, ma è rivolto essenzialmente ai giovani, non solo per poter dare un minimo, seppur comunque concreto sostegno economico, ma soprattutto per poterli far esprimere, perché poi nel lavoro sta la dignità delle persone, secondo noi, che questo fa parte del nostro modo di operare come fondazione. E quindi da qui è nata questa bella idea. Abbiamo naturalmente applicato questa regola, se vuole, a un po' tutti i nostri settori di intervento, oltre all'arte, l'abbiamo applicata ad altri settori, per quanto riguarda l'istruzione, che comunque è un settore che ci vede coinvolti. Abbiamo dedicato particolari risorse a tutte le scuole, chiamando tutte le scuole ad esprimere necessità, esigenze, dal punto di vista di avere disponibilità economiche immediate per poter fare degli interventi necessari. L'abbiamo applicato nel volontariato, avendo un particolare riguardo a quelli che sono, diciamo così, gli enti sovraordinati, quelli che per esperienza, per abitudine, sono più vicini ai bisogni e all'interpretazione dei bisogni della collettività. Quindi a tutto tondo abbiamo cercato di dare questa risposta nei limiti delle nostre possibilità. Il progetto, diciamo, si basa su due grandi fondamenta. Uno è due grandi verità, io le definisco. La bellezza straordinaria dei territori della provincia di Pesaro Urbino, quindi sia architettonici che ambientali, quindi creati dall'uomo o dalla natura, e la bravura dei tanti artisti che abitano nei nostri territori. Artisti che sono o nati qui, oppure che hanno scelto di vivere qui, pur venendo veramente anche da altri continenti. Quindi un'idea che può essere definita un uovo di Colombo, molto semplice, ma che in realtà è vincente, proprio perché si basa, ripeto, sulle verità delle cose. Ne sono nati appunto questi 14 brevi documentari, che si dividono un po' in due parti. Nella prima parte, con un cicerone, ecco, entriamo in questi luoghi per conoscerli, anche luoghi delle volte che non sono così facilmente aperti al pubblico. La seconda parte, invece, è rappresentata proprio da il palcoscenico vero e proprio, nel senso che tutti questi luoghi si prestano ad essere dei straordinari palcoscenici per artisti d'eccezione. Tra questi abbiamo già avuto modo, insomma, di presentare il più giovane di tutti nel cuore, che è il maestro Glauco Mauri, che insieme alla giovanissima Francesca Gabucci ha dato vita ad un'interpretazione del canto quinto, proprio nella stanza di Gradara, dove, ecco, si dice nella leggenda che successe il fatto, appunto, di Francesca Darimini, è davvero, ecco, un inizio splendido per questi documentari. Ma è l'unica presenza attoriale. In realtà abbiamo scelto, più che altro, non solo perché siamo patrimonio UNESCO della musica, ma abbiamo scelto soprattutto musicisti, perché la musica è un linguaggio, come si sa, universale. E questi video, poi, vorranno, ecco, girare un po' il mondo. Si prevede anche una sottotitolazione in lingua inglese per dare la possibilità a tutto il mondo di conoscere questi nostri meravigliosi luoghi, che spesso non conosciamo neanche noi di casa. Ecco, quindi, dal particolare all'universale per conoscere e dare vita a questi nostri luoghi.